Ciao, sono Francesca Mac e io sono Andrea Giuliani. Ci occupiamo di investimenti immobiliari, ovvero abbiamo una società che si occupa di flipping immobiliari nel mercato libero, ovvero acquistiamo, rivalutiamo e rivendiamo immobili nel più breve tempo possibile e per ottenere un utile. Questa attività la svolgiamo sia attraverso i nostri capitali, ovvero i capitali della nostra società, ma anche e soprattutto attraverso i capitali di terzi investitori che finanziano le operazioni direttamente gestite da noi. Quando abbiamo deciso di affidarci ad Antonio è perché stavamo cercando un professionista che ci aiutasse a risolvere i problemi quotidiani che avevamo nella nostra attività. Grazie a lui siamo infatti riusciti a ordinare i numeri, a imparare a gestirli e soprattutto a organizzare l'attività in modo proficuo. Quelli che prima erano problemi sono diventati delle semplici attività da fare nel nostro quotidiano. Grazie a lui infatti siamo riusciti a fare cinque volte il fatturato dell'anno scorso e adesso abbiamo degli obiettivi molto chiari e sappiamo come raggiungerli. Grazie anche e soprattutto al suo aiuto che è sostanzialmente quotidiano. Un aspetto molto importante che mi preme sottolineare è il fatto che grazie ad Antonio siamo riusciti a risolvere anche tutte quelle problematiche emotive, emozionali che un imprenditore ha quando va ad affrontare dei problemi o delle questioni che riguardano la propria società. Quindi grazie ad Antonio perché anche questo aspetto per noi è stato importantissimo e ci aiuta ogni giorno nella nostra attività. Esattamente per questo motivo ci sentiamo di consigliare a qualsiasi imprenditore di affidarsi a Business Coaching Italia. Grazie mille Antonio.